C'è la scuola? Guarda... ...vano le cadere della buco del gioco... ...d'alba non si è toccato... ...meni in piedi, per un uomo... ...tra' somiglia! ...lima! ...vano le cadere... ...vano le cadere della bucovaccia adesso... ...d'alba non sovra l'area... ...vano le cadere... Siamo arrivati, siamo arrivati. . 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